La seconda considerazione di carattere generale che però in un certo senso risponde a un punto che molti di voi hanno sollevato riguarda i vaccini, riguarda l'azione del governo nella campagna vaccinale. A proposito, prima di tutto io desidero porgere un ringraziamento pubblico al generale Figliolo. Come quelli di voi hanno osservato, lo sforzo organizzativo, lo sforzo logistico è stato imponente. Ma nelle varie posizioni che si possono prendere al riguardo vorrei soltanto ricordare che noi ci siamo ripresi in questa normalità con la quale possiamo guardare a questo Natale e alle feste con una certa tranquillità, ci siamo ripresi in questa normalità al prezzo di più di 134.000 morti. Quindi, e qui riprendo le parole di una deputata stamattina, noi vogliamo difendere e difenderemo questa normalità con le unghie e con i denti.